Alla Asle di Teramo saranno 180 dipendenti che andranno in pensione nel 2019, di questi circa 30 medici, numero a cui bisogna aggiungerci i 60 che lasceranno il proprio lavoro per quota 100. Dati allarmanti visto che il sistema sanitario teramano vive una situazione di difficoltà per la mancanza di personale. Fra le quattro Asle abruzzesi, l'azienda di Teramo infatti nonostante le continue assunzioni è quella messa peggio, visto che deve colmare un gap maggiore rispetto alle altre. La quota 100 andrà a gravare notevolmente per il personale del comparto, soprattutto di infermieri, del personale del ruolo sanitario, del comparto sanitario e in parte anche del personale amministrativo che è fondamentale pure per un'azienda per portare avanti tutti i processi. Invece per i medici la quota 100 ingegnerà meno perché almeno la quota 100 ha inserito una clausola per cui non può essere il cumulo di reddito. Il medico non può svolgere un'altra attività fino al raggiungimento dell'età pensione a più di 67 anni, può fare solo attività di lavoro autonomo per un reddito complessivo anno di circa 5.000 euro. Quindi questo, come possiamo dire, raffredda il medico di andare in pensione. Noi mettiamo una pezza facendo concorsi ma come ben sapete tanti concorsi vanno in deserto, abbiamo difficoltà soprattutto a reperire dei medici per quanto concerne gli altri presidi degli ospedali di base di Giuliano Mario e Santomero dove nel momento in cui fa il concorso i mesi di fiuso di andare lì a lavorare noi cerchiamo di tamponarlo in tutti i modi ricorrendo a tutti gli strumenti che la legge oggi ci mette a disposizione ma qui per risolvere il problema non è necessario solo un'azione dell'azienda ASL che può essere eterna come può essere altre ASL del territorio ma è fondamentale un intervento statale che vada a risolvere al mondo il problema. C'è il rischio che si ridimensioni qualcosa, è ovvio che noi non riusciremo più a garantire l'apertura dei quattro ospedali noi non vogliamo arrivare a questo e nessuno vuole arrivare a questo perché tutti vogliamo che la sanità a cui siamo abituati però ecco, dobbiamo vigilare, lavorare, impegnarci per evitare questo.